Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Blu, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, laddove c'era l'erba ora c'è una città e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà, questo ragazzo della via Blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva, io gli domando amico non sei contento, vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa a testa da giù nel cortile. Mio caro amico di sé qui sono nato, e in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire, è una fortuna per voi che restate a piedi nussi a giocare nei prati, mentre l'incenso io volentino il cemento. Dopodiché ho fatto altre cose, dopo sempre tutte le cose mi hanno sconvolto che succedevano nel mondo, le cose che succedono anche in Europa e anche nella mia zona, allora un giorno io uscivo dal barbiere e ho preso il giornale, ho letto, strangolata con... no qui non c'è scritto niente, strangolata qua, rapinato al giovedì, al martedì ha ucciso, ha tirato due bombe dalla parte di qua, una qui, una qui, insomma io ho detto ma come va che succedono tutte queste cose nel mondo? E' possibile che questo giornale dice che succedono tutte queste cose? Io non ci credevo a questo fatto qua, non ci creduto, non ci ho creduto io, non ci credete, non ci ho creduto, no no no, allora dopo... E allora cosa ho detto? Per me questo giornale è finto, ha esagerato un po', e allora proprio mi è venuto in mente di fare una canzone, e ho fatto il mondo in Mi Settima, non so se ricordate il famoso mondo in Mi Settima.